Ed eccoci qua cari amici, buongiorno a tutti, mi trovo nuovamente a Luna Park a documentarvi i camion ovviamente. Questo ve lo ricorderete, l'ho già filmato in passato, per chi ancora non l'avesse visto è un Fiat Iveco 190 F26, bellissimo, Iveco Turbo. Per chi ancora non l'avesse visto, già filmato la scorsa settimana, il pezzo che non vi ho ancora fatto vedere è questo, Iveco che secondo me è un Fiat modificato, poi lascio agli esperti la parola, bellissimo anche questo, dotato di gru. Eccolo qua. Sempre molto belli questi camion. Vediamo i particolari delle ruote. La vedete altri camion. Vediamo anche questo rimorchio bellissimo. E questi due camion. Questo bellissimo Iveco Turbo del 69. E niente, con qua concludo. Saluto tutti i miei iscritti non. Già un piccolo traguardo di 10 iscritti, già superati. Piccolo traguardo, speriamo che aumentino ancora. Con questo saluto tutti e vi do appuntamento a una prossima diretta. Iscrivetevi. Ciao a tutti.